Michele Tribuzio, alias Zio Mike, è laureato in Scienze Agrarie ed è esperto di psicosomatica, fisiognomica e sociologia. Dal 1982 mette le sue competenze al servizio delle più grandi aziende di vendita diretta in Italia, contribuendo alla selezione, alla formazione e alla consulenza di migliaia di venditori e manager. Ha fondato la Top Level, società che si occupa di eccellenza nella performance. È editore e autore di libri, materiale formativo e audiovisivo, sui temi della formazione professionale e umana. Esperto di processi evolutivi, aiuta talenti ad acquisire uno sguardo nuovo sulle situazioni che affrontano, lavorando sul chi sei e sul cosa vuoi, per migliorare la performance individuale verso il cosa fare e come farlo. Zio Mike, al secolo Michele Tribuzio, laureato in Scienze Agrarie, professore di chimica, poi agente e rappresentante, da molti anni manager di una società importante, editore, formatore e coach. Ma in cosa consiste questo tuo lavoro? È un lavoro bellissimo, perché è la capacità di capire e comprendere le qualità di un uomo, di una donna e quindi fare in modo che possa rispondere al suo obiettivo di vita, ovvero sia essere la più bella espressione della sua esistenza. E siamo qui oggi con diversi scienziati che sono venuti da tutta Italia per poter rimostrare quelli che sono gli studi. Legge cresce, partecipa ai semi, paga, perché solo pagando a prezzi e cresce. Tutto qui.